La biodiversità è la varietà delle forme di vita sulla Terra, rappresentate da organismi microscopici, piante e animali. Si esprime attraverso la diversità genetica, nelle differenze tra individui appartenenti a una stessa specie o a specie diverse e nelle loro interazioni con l'ambiente. L'agrobiodiversità è quella parte di questa diversità che è legata all'agricoltura e di conseguenza alla produzione di cibo e risorse naturali. Comprende quindi le piante coltivate, gli alberi, il bestiame e la fauna selvatica, che forniscono direttamente cibo o materie prime. Dell'agrobiodiversità fanno anche parte i microorganismi del suolo, gli insetti impollinatori e l'ambiente circostante. Tra i molti fattori che influenzano negativamente questa diversità ci sono il sovrasfruttamento, l'inquinamento e il cambiamento nella gestione del suolo e dell'acqua. Il passaggio alla produzione intensiva di poche specie, razze e varietà riduce notevolmente la diversità. Per esempio, oggi il 66% della produzione agricola mondiale è basata unicamente su 9 specie vegetali, tra le 6.000 specie che vengono coltivate. Delle razze locali di bestiame, il 26% è a rischio di estinzione. Molte delle specie legate alla pratica agricola, quali i microorganismi del suolo, gli impollinatori e i nemici naturali dei parassiti stanno diminuendo. La biodiversità rende il sistema di produzione più resiliente agli impatti negativi e più capace di adattarsi ai cambiamenti, compresi quelli causati dai cambiamenti climatici. Riduce inoltre la necessità di input esterni nel sistema e dei relativi costi e impatti ambientali. L'agrobiodiversità è di primaria importanza per accrescere la sicurezza alimentare e il benessere umano e nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile. Grazie a tutti.